Il caro Energia continua a mostrarsi con i suoi effetti devastanti. Continua tra gli altri a ribadirlo Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio, che proprio oggi con uno studio ha mostrato i numeri degli aumenti. I più fortunati, si fa per dire, sono i negozi non alimentari, che avranno un aggravio del 40%, poi a seguire gli alberghi, 61%, negozi che vendono alimentari, 62%, ristoranti, 73%, e per finire i bar che raddoppieranno la spesa, più 100%. L'aumento del caro Energia continua a far paura alle imprese del commercio, della ricettività e della ristorazione, che nel 2022, nonostante le misure di contenimento già adottate dal governo, dovranno far fronte a un aumento della bolletta energetica che per qualcuno sarà semplicemente non sostenibile. In queste settimane, spiega Bertin, la questione dei costi energetici per le imprese del terziario è rimasto sullo sfondo, quando invece, soprattutto per il nostro territorio, dove il terziario è maggioritario, deve avere pari dignità e attenzione, soprattutto se consideriamo che il nostro è il settore che più di ogni altro è stato duramente segnato dalla pandemia.